Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e come potete vedere siamo ancora qui su GTA 5 Ok, volevo fare un video oggi un po' cazzuto, non so che fare veramente Quindi cominciamo a fare un po' di bordello, a sparare le ruote, alle gomme, a tutto, i poliziotti già in co... E sono già morto, pazzesco, pazzesco! Ok ragazzi, a parte gli scherzi, volevo farvi vedere un, diciamo, qualcosina che avevo visto di nuovo che c'era su internet Allora, su internet avevo visto, mi sembra, un veicolo nuovo Che, eccolo qua! No, 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 non è vero, non è vero Però cacchio, sono veicoli spettacolari ma costano un macello di soldi E quello è il problema E vabbè, vabbè, vabbè Allora, andiamo a fare subito una gara, ci troviamo in gara, come sempre ci divertiamo un po' facendo un po' di gare E niente, ci ritroviamo in gara Ed eccoci qui ragazzi Siamo pronti, tutti con le auto uguali Quindi qui conta la bravura ragazzi A meno che non ci sia qualcuno con l'auto modificata Ma non credo perché Mi sa che l'host ha messo auto non modificate Invece no Ah no, 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 sì, sì, perché quello ha fatto lo scatto in partenza Ok, cominciamo a soltare la scia Ok, saliamo la prima curva In difficoltà, siamo in difficoltà Siamo in difficoltà Ci stanno già le calcagna Ci stanno già le calcagna Ci fanno sbagliare Madonna mia Non è possibile Mi hanno fatto saltare il checkpoint Non è possibile Non è possibile, dico io Manco a fare un video riesco a fare Un video fatto bene, maledizione Comunque noi non demordiamo Non demordiamo Non demordiamo Cerchiamo di risalire Vediamo di posizione Siamo ultimi ora Perfetto Siamo tornati sulla strada E torniamo subito sulla Oh mio Dio Mio Dio Mio Dio sul serio ragazzi Oggi non ci siamo proprio Non ci siamo proprio oggi Poi mi fanno fare le strade Mi fanno fare le gare sulle strade Con questa auto qui ragazzi Che sono Scandalose 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 Oh mio Dio sto cadendo Scandalose Scandalose Siamo ultimi Attenzione Pazzesco Recuperiamo un giocatore Vediamo un pochettino Cosa riusciamo a fare All'interno Mamma mia Manco Ayrton Senna Manco Ayrton Senna Queste mosse Cerca di buttarci fuori Ma noi siamo grintosi E rimaniamo in pista E' lui davanti E' lui davanti Ma noi lo andremo a prendere Come non mai Lo andremo a prendere come non mai Ora siamo su Su asfalto Guardiamo su asfalto Citarella 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 come non mai Piazziamo giù i freni Potrebbe Infatti Infatti Vedete Ho detto Ho pensato bene di piazzare i freni prima Perché sapevo che era un po' Un casotto qua Attenzione Però Si potrebbe guadagnare Altre due posizioni Attenzione incredibile Un'altra guadagnata La gente si sta incartando Ragazzi sto facendo una telecronica un po' Un po' vivace Ma non preoccupatevi E che sono esaltato da questa gara Eravamo ultimi Eravamo ultimi E stiamo quasi sul podio Stiamo quasi sul podio Pazzesco Pazzesco Incredibile Ci siamo Siamo terzi Perché quell'altro è andato dritto Dritto giù Per la collina Perfetto Oh mio dio Che adrenalina Troppa adrenalina ragazzi Ok Ok Siamo in solitaria ora Dovrebbe essere una gara tranquilla questa Dovrebbe essere una gara tranquilla adesso Prima è stata un po' vivace Un po' movimentata Ecco L'unica cosa che Mi manca di GTA Ma in tutti i GTA Il contachilometri So che si può mettere Il contachilometri Con le mod Naturalmente Su PC Però l'unica cosa che mi manca È proprio quello Il contachilometri Mi piacerebbe avere un contachilometri Ehm Sulla Come si dice Sul Sul video no Vedere il contachilometri sul video E intanto comunque Abbiamo concluso in Mi sembra Eccoci qui Siamo arrivati terzi Con un tempo di 3 minuti 48 E 959 I dollarozzi 2280 Saliamo di livello Livello 44 C'è sempre Cioè non che saliamo di livello Grazie per il vaffanculo Eh Troppo gentile Io direi ragazzi Di farne un'altra Vedere se Se c'è tempo nel video Di farne un'altra Pronti Pronti Siamo qui Tutti pronti Mamma mia È bruttissimo Partire per i primi ragazzi Perché Vi vengono subito nel sedere Attenzione Ok Siamo le scie Siamo subito Siamo a concludere Cioè a concludere A iniziare una gara In modo serio Attenzione al salto qui Tagliamo un pochettino Curva bella presa Bella piena Senza problemi E si vola Si vola Si vola Come non mai Ah Attenzione Perché abbiamo preso uno Abbiamo preso anche un altro Vedete Vedete Come funziona Il mio sistema È tutta È tutta furbizia Voi dovete capire Che è tutta furbizia Questa Tutta furbizia Stando che qui la stanna Comincia ad essere un po' Impervia Perché ci sono anche i salti Oh mio dio Dov'è la strada? Oh mio dio Dov'è la strada? Oh Perfetto Curva a destra Curva a sinistra Ce l'abbiamo dietro Non andiamo troppo veloce Non andiamo troppo veloce Prima di schiantarci Ok Oh mio dio ragazzi Ma Sto video è veramente frenetico 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 Via così Via 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 La fine La fine Seguiamo la scia Seguiamogli la scia La scia alla fine La scia alla fine E si vola Incredibilmente Incredibilmente Alla fine lo supera In un modo pazzesco Non sa neanche lui come ha fatto Con la scia Sfruttando la scia Pazzesco ragazzi Arrivato Arrivato incredibilmente Terzo ragazzi Sul podio Intanto il tempo è 20777777777 E direi che abbiamo concluso qui ragazzi Dovrebbe essere venuto fuori un video di almeno 6 minuti 7 minuti poi coi tagli Comunque spero che il video vi sia piaciuto Io vi porto sempre Comunque GTA Vi porto sempre le gare Perché Sono sempre diciamo Possono essere Diciamo Sempre divertenti E riservare sempre qualcosa di Emozionante E Accattivante Diciamo così Comunque se il video vi è piaciuto Vi risolto a lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Bella